Martino Martino che indossava un grande mantello rosso vide un povero mendicante seduto sul bordo della strada il poveretto tremava dal freddo perché non aveva nulla per coprirsi senza pensarci due volte Martino fermò il suo cavallo prese la sua spada e tagliò a metà il suo mantello con un gesto dolce Martino offrì una delle due parti al mendicante che lo accolse con un sorriso riconoscente quella notte Martino sognò di vedere Gesù che gli disse Martino oggi mi hai aiutato anche se non lo sapevi quando si svegliò il mantello di Martino era miracolosamente integro da quel giorno Martino decise di lasciare l'esercito e dedicare la sua vita ad aiutare gli altri avogli alle due Grazie a tutti.